In questo esempio vediamo come è possibile inserire la risorsa database all'interno di una sezione del nostro corso. Clicchiamo sulla voce Aggiungi un'attività o una risorsa per far comparire la finestra che ci permette di selezionare le risorse. Andiamo a selezionare la risorsa database cliccando sull'icona specifica che è presente all'interno della finestra. Quindi a questo punto clicchiamo sul pulsante Aggiungi. In questo modo si accede alle opzioni relative alla risorsa. Per questo inseriamo il nome della nostra risorsa e inseriamo anche una breve introduzione. È possibile impostare numerosi parametri relativi al nostro database, come per esempio il numero minimo dei record che l'utente deve inserire, il numero minimo di record da inserire per poter visualizzare le risorse inserite da altri utenti. È possibile anche decidere quale deve essere il numero massimo di record che l'utente può inserire, oppure se l'utente può esprimere o inserire dei commenti relativi ai record inseriti. Inoltre si può decidere se i record inseriti dall'utente devono essere approvati prima di diventare visibili a tutti gli utenti. Altre impostazioni riguardano la sezione relativa alle valutazioni o al completamento delle attività. Una volta che la configurazione del modulo è stata completata, bisogna cliccare sul pulsante Salva e torna al corso per rendere le modifiche finali e accettate dal sistema. Nella sezione a questo punto compare il link al nostro database. Cliccando sul link si apre il database che risulta naturalmente vuoto. A questo punto è necessario continuare nella configurazione del database affinché questo possa essere utilizzato dagli utenti. Il database presenta alcune etichette che permettono di accedere alle specifiche funzioni. La prima operazione da fare è quella di determinare i campi che devono essere presenti all'interno del database. I campi si può immaginare che siano dei cassetti all'interno dei quali l'utente inserisce gli elementi che poi saranno visibili ad altri utenti all'interno del database. Come esempio inseriamo alcuni campi all'interno del database. Selezionando il menu specifico si apre una tendina che ci permette di selezionare il tipo di campo da inserire. Come primo campo inseriamo un'area di testo. La finestra relativa a questo campo ci permette di impostare il nome del campo, una breve descrizione, una larghezza determinata dal numero delle colonne, un'altezza determinata dal numero delle righe, la dimensione massima dei file che possono essere collegati al campo area di testo. Terminato l'inserimento dei dati è necessario cliccare sul pulsante aggiungi affinché il campo sia inserito nel database. Procediamo con l'inserimento di un altro campo. Questa volta selezioniamo il campo menu. Nella finestra andiamo a inserire le opzioni relative a questo campo. Inseriamo il nome del campo, una breve descrizione e a questo punto andiamo anche a inserire le voci di menu. Il campo menu permette all'utente finale di visualizzare un elenco di voci e quindi di scegliere una di queste affinché sia possibile la costruzione di questo campo è necessario inserire per ogni riga una delle voci che compariranno nel menu. Terminata la configurazione del campo cliccare sul pulsante aggiungi. Come si può vedere questo secondo campo viene aggiunto al database. Continuiamo adesso inserendo un campo immagine nel nostro database. Anche qui le opzioni possibili sono il nome del campo, la descrizione e soprattutto la dimensione dell'immagine nella visualizzazione dettagli e nella visualizzazione elenco. I numeri che possono essere inseriti si riferiscono alla dimensione in pixel dell'immagine. Altro parametro che va inserito è la dimensione del file immagine. Naturalmente si consiglia di impostare un valore non molto alto per evitare che gli utenti inseriscano immagini abbastanza pesanti che poi vanno a determinare un aumento dello spazio richiesto a livello di server per caricare queste immagini. Anche in questo caso, una volta che è stata terminata l'operazione di inserimento dei valori, bisogna cliccare sul pulsante aggiungi affinché il campo sia inserito nel database. L'operazione di inserimento campi può continuare fino ad ottenere tutti i campi che si desidera far comparire nel nostro database. Nel momento in cui tutti i campi desiderati sono stati inseriti nel database è necessario passare alla sezione modelli cliccando sulla voce della scheda. Questa sezione permette di visualizzare la visualizzazione dei record da parte degli utenti. In modo particolare è necessario personalizzare il modello dettagli e il modello elenco. Il modello elenco rappresenta una sintesi dei record che sono stati inseriti all'interno del database. Il modello dettagli invece presenta una visualizzazione più ampia dei record che sono presenti nel database. Quindi nel modello dettagli solitamente sono presenti più informazioni. Vediamo adesso quali sono le operazioni più semplici da fare per ottenere una visualizzazione che risponde a quelle che sono le richieste dell'utente. Vediamo adesso le operazioni più semplici che si possono fare sui modelli per adattare gli stessi alle nostre richieste. Il modello dettagli per esempio viene mostrato come una tabella in cui possono essere distinte due colonne. La prima colonna contiene il nome del campo. La seconda colonna contiene invece il tag che richiama il campo e quindi estrae dal database le informazioni inserite. Il tag viene riconosciuto perché il nome è inserito all'interno di due parentesi quadri. Vi ricordo che il tag non può essere modificato altrimenti il database non restituisce all'utente dati corretti. Nel nostro esempio decidiamo di eliminare alcune righe. Per poter eliminare le righe vi ricordo che si può operare in questo modo selezionando la riga e richiamando dal pulsante destro del mouse le funzioni che sono associate. In questo modo comparirà un menu da cui sarà possibile selezionare Elimina riga. Altra personalizzazione che può essere effettuata è quella di inserire all'interno del nostro modello per esempio il tag che permette di richiamare l'utente che ha inserito il record e la data in cui è stato inserito il record. L'operazione di personalizzazione va fatta anche sul modello elenco e anche in questo caso è possibile o eliminare delle informazioni delle righe oppure inserire dei tag per poter ottenere informazioni aggiuntive. Anche in questo caso vi ricordo che i tag oltre ad essere eliminati possono anche essere inseriti. Vi ricordo che il modello dettagli è presente a destra del riguadro mentre i tag disponibili sono presenti nella finestra di sinistra. Per inserire un tag nel modello è necessario posizionare il corsore dove si vuole che il tag venga inserito. A questo punto per inserire il tag bisogna dare a selezionarlo nella finestra a sinistra cliccare due volte sulla voce del tag e questo verrà inserito automaticamente. Terminata l'operazione bisogna salvare il modello affinché tutte le modifiche effettuate siano acquisite dal sistema. Con queste operazioni minime il nostro database è pronto per ricevere i dati e quindi per permettere agli utenti di inserire dei record. A questo punto si può vedere che per inserire un record è necessario cliccare sull'etichetta inserisci. La finestra che si apre permette di inserire delle informazioni relative al record. Queste informazioni riguardano i campi che precedentemente abbiamo inserito. Le voci che vanno completate nel nostro esempio riguardano il nome, riguardano la classe di appartenenza, quindi bisogna selezionare dal menu attendino alla voce desiderata, si può caricare un'immagine, si può inserire una breve descrizione dell'elemento record. Fatto questo si salva e si va a visualizzare nel corso il record. È possibile andare a selezionare nell'elenco l'elemento che è stato inserito, come anche è possibile passare ai dettagli per avere maggiori informazioni. La cosa che è possibile notare è che quando abbiamo configurato il campo relativo all'immagine abbiamo deciso che nella voce elenco l'immagine sia ridotta, abbia dimensioni quindi più piccole, mentre nella voce dettagli l'immagine sia presente con una dimensione maggiore. Naturalmente è possibile modificare le opzioni che sono state inserite relativamente ai campi in qualsiasi momento. Infatti in questo caso possiamo andare a correggere la visualizzazione della data e dell'utente che ha inserito il record perché non è presente uno spazio tra questi due elementi. Per poter andare a correggere questi dati basta cliccare sull'icona modifica, andare a correggere i due elementi dando uno spazio e quindi salvare il modello. Ritornando sul voce dettagli è possibile vedere che è stata effettuata la correzione. Richiamando ancora la voce dettagli si può notare che la correzione è stata ricevita dal sistema e il modello risulta essere corretto nella sua visualizzazione. È presente uno spazio tra i termini che danno informazione sull'utente che ha inserito il record e sulla data in cui il record è stato inserito. Altra funzione che il database permette di ottenere è quella della ricerca. Naturalmente, poiché è stato inserito nel nostro esempio un solo elemento, la ricerca risulta non essere significativa. Tuttavia i database possono essere molto popolati, quindi il numero di record presenti nel database può essere anche notevole. Allora in questo caso la ricerca diventa molto importante e soprattutto permette in modo agevole di raggiungere i record desiderati. Grazie a tutti.